Top 10 Occidentali Scarma 7 Rossella Ferrari e Casanova con Chizomba de Amor 6 Omar Codazzi con Lacrime di Eroi Ma ora passiamo al ballo di gruppo del mese di maggio Ballo di gruppo del mese di Liscio.1 La coreografia di Massimiliano Napoli con Bailar Mamma Bailar Ora scopriamo chi si trova nelle prime cinque posizioni 5 Rossella Ferrari e Casanova con Il Canto del Mar 4 Il ballo di gruppo Despacito Al terzo posto c'è Omar Codazzi con In Silenzio Al secondo posto c'è Le mie notti di Mariano Lanteri e Omar Lambertini Primo posto per Bagutti, Lambertini, Lanteri e Tarantino con Siamo l'Italia che balla E' nata Radio Liscio.1 La radio ufficiale italiana della musica da ballo Scarica subito l'app La puoi trovare gratis per iOS e Android Radio Liscio.1 Inimitabile Appassionata Proprio come te